Sono arrivata in questo momento, ho detto beh ma non facciamola, la marcia su Roma c'è già stata, facciamo una marcia su potenza, questa città di merda che ci ha dato la Lamorgese, che ci ha dato il generale Figliolo e che ci ha dato Roberto Speranza. Facciamo la suppotenza, una marcia che di nord scende a sud ed espella questo giarpane.